Ciao Bilanica, bentornato. Oggi è venerdì, 25 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Qual è il tuo numero oggi? Guarda fino alla fine del video per scoprirlo. Oroscopo Bilancia. Amicizia in stradata verso l'amore. Sul fronte professionale tutto tace, se il lavoro c'è procedete a ritmo tranquillo, con guadagni che vi consentono di vivere, anche se gli investimenti più gloriosi appartengono ormai al passato. È la serata, perciò, il momento più caldo, grazie al trigono luna venere che alimenta i sentimenti, caldeggia la creatività e rafforza i legami armonici tra i cuori. Se la coppia c'è, oltre che amanti vi sentite anche amici, se siete solo amici presto ci scapperà anche un bacio e un altro ancora. A una serata sociale pervenite con un look ineccepibile, la vostra immagine ammaglia ma ha suscita qualche invidia. Non solo consigli, ma prestiti a un amico che naviga in cattive acqua. Possessività e gelosia distinguono il vostro rapporto d'amore, è quasi un'ossessione che sfocia in debolezze evidenti di uno dei partner. Si grida, si urla, ma non si costruisce, si è quasi succubi del proprio rapporto di coppia o di qualcuno. Una persona di cui si è innamorati non ci ricambia e siamo succubi dello stesso. Possibilità anche di problemi economici. I single dovranno abituarsi all'idea di restarlo ancora per abbastanza tempo. Dovreste fare economia il più possibile, mettete da parte quello che potete e limitate al massimo le spese. Risparmiare è sempre bene e una cosa positiva. La vita di coppia oggi risente del vostro nervosismo, se avete preso delle decisioni importanti fatene partecipe il partner anche se. La cosa riguardasse proprio lui. Non abbiate fretta di concludere qualcosa che riguardi un lavoro o degli affari, avete tempo e modo di prendere con calma le decisioni che dovranno essere quelle più opportune. La fretta non gioca la vostra partita nei prossimi giorni. Non cercate altro al di fuori di quello che vi è concesso oggi, ogni giorno ha la sua pena e le sue gioie. Fate in modo da affrontare tutto con eleganza e, soprattutto, tenete alta la testa. Per molti oggi sarà meglio restare a casa per la serata, inconvenienti e una serie di imprevisti potrebbero caratterizzarla. Alcune contraddizioni che potreste avere oggi feriranno chi vi sta vicino e vi ama, serve maggiore sincerità e maggiore trasparenza. Non trascinare una situazione che è critica già da un bel pezzo. Dacci un taglio finché sei in tempo. Risorse disponibili e occasioni giuste potranno darvi una mano a rigenerarvi e cambiare qualcosa nella vostra vita. Finalmente oggi potreste realizzare un piccolo desiderio. Le coppie dovranno prestare particolare attenzione, oggi una parola di troppo potrebbe provocare disastri. Mercurio, trovandosi nel segno buon vicino e adiacente dello Scorpione dove il pianeta si trova molto a suo agio, vi porta fortuna nel sociale e se siete della seconda decade. Se appartenete alla prima decade venere nel Sagittario, benefica fa sì che, attraverso stimoli e interessi artistico, culturali, il vostro stato d'animo migliori considerevolmente. Se siete nati nella terza decade avete Plutone imbronciato e dovrete così fronteggiare piccole noie quotidiane. Per vostra fortuna il cielo piazza diversi altri pianeti che vi aiutano a trovare le strade di razionalità, buon senso, capacità di compromesso, indispensabili per arrivare alle vostre mete. Di ottimo umore e con ottime ragioni per esserlo, alle spalle la luna in leone, davanti a voi venere in Sagittario, entrambi in segno di fuoco in se stile, che con l'aria del vostro si accorda a meraviglia, il calore della fiamma la porta in alto spiritualizzandola, infatti ora vedete le cose con maggiore obiettività felicissimi del loro andamento. Amore ed Eros Basta tenervi dentro i vostri sentimenti, l'amore non ha mai fatto male a nessuno, perciò prendete il coraggio a due mani e manifestatevi. A sorpresa l'oggetto delle vostre brame farà lo stesso con voi e nello stesso istante. Pace fatta tra parenti temporaneamente allontanati da un malinteso. I discreti favori di Venere, pianeta ricordiamo vostro nome tutelare, vi riscalda piacevolmente i sensi, in special modo se siete nati dal 24 settembre al 4 di ottobre e se cercate l'amore vero, vi facilita agilmente la strada. Se siete nati in ottobre, invece, navigate in una fase affettiva di calma, forse un po' piatta, ma senza annoiarvi. Lavoro e denaro Trattative coronate dal successo, molto fa la vostra professionalità, ma una parte significativa tocca anche all'aspetto, sorriso sereno che conquista. Fortunati gli studi, gli affari, gli spostamenti per lavoro, magari non da soli, in compagnia di colleghi gentili e generosi, coi quali vi troverete benissimo fin dal primo istante. Un buon guadagno vi infonde sicurezza, consentendovi di fare progetti nell'immediato futuro. Mercurio e il Sole sono entrambi positivi e vi permettono di svolgere la vostra attività con efficienza, senso del dovere e senza stancarvi un attimo. Proseguite volentieri i ritmi di lavoro quotidiano. Chi abbia abbracciato una libera professione si prepari a promettenti svolte che anticipano futuri successi meritati. Benessere Dopo un raffreddore ricominciate a mangiare e a dormire, anche l'allegria torna a fare da padrona, indizio che siete completamente guariti. Denaro Attenti e parsimoniosi, farete oggi, con due pianeti come Luna e Venere nel Leone e nel Sagittario, ad assistervi, solo a questi mirati e sempre guidati dalla luce del buonsenso. Per lei, la vostra creatività non può arenarsi con la preparazione della cena, qui ci vuole un corso di pasticceria, di scrittura creativa, di musica. Date aria all'artista che c'è in voi. Per lui, per risolvere una questione di lavoro il tocca sana e la vostra diplomazia, avete il talento speciale di mettere d'accordo la sinistra con la destra, siete i maghi dell'incollaggio. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze, 7. Beneessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.